Buongiorno a tutti e ben trovati. Questo è il quarto seminario, se non ricordo male, del ciclo di Figured Heritage organizzato da me, da Guri Svarze e da Paola Valenti nell'ambito delle attività didattiche del dottorato in studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale dell'Università di Genova e in collaborazione con il Center for the History of Racism and Antiracism in Modern Italy. È un grande piacere accogliere, direi ancora una volta, non è il primo incontro di questo tipo, Elena Pirazzoli. Presento brevemente il suo profilo scientifico. Elena Pirazzoli si occupa di cultura visuale, di studi memoriali e public history, è dottore di ricerca in storia dell'arte presso l'Università di Bologna e ha collaborato per diversi anni con la Catedra di Storia dell'Architettura Contemporanea e quella di Museologia del Dipartimento delle Arti Visive, sempre dell'Università di Bologna. Dal settembre 2019 è Wissenschaftliche Mitarbeiterin presso l'Istituto Martin Buber per gli studi ebraici dell'Università di Colonia nel quadro del progetto Le stragi nell'Italia occupata nel 1943-45 nella memoria dei loro autori. Ha al suo attivo diverse collaborazioni per progetti di ricerca e formazione con alcuni istituti storici della resistenza della società contemporanea, in particolare la rete degli istituti dell'Emilia Romagna e l'Istituto Storico di Torino, con fondazioni legate a luoghi di memoria, ad esempio la Scuola di Pace di Montesole, la Fondazione Fosso di Ricarpi, con l'associazione Atrium, Architecture for Totalitarian Regimes in Urban Management di Forlì, il Museo Ebraico di Bologna, il Museo diffuso della resistenza di Torino, l'Home Movies, l'archivio nazionale dei film di famiglia di Bologna e la compagnia teatrale Archivio Z. Fra le sue pubblicazioni ricordo, in particolare la monografia a partire da ciò che resta, forme memoriali dal 1145 alle macerie del muro di Berlino, pubblicata nel 2010 e la recente curatela di Teatro di Marte, il cimitero militare germanico del passo della futta. La presentazione di Elena Pirazzoli di oggi si intitola La scala disumana, l'architettura del nazismo tra concezione, rimozione e risemantizzazione, quindi affronto a un tema che abbiamo sfiorato in realtà nei precedenti seminari, ma che oggi in qualche modo prendiamo di petto, direi insomma e approfondiamo. Invito tutti durante la presentazione di Elena Pirazzoli di spegnere il microfono e il video per poi riaccenderla nella sessione ovviamente di domande, insomma successiva. Bene, lascio la parola Elena Pirazzoli e la ringrazio ancora, prego. Grazie, grazie per questo invito, grazie a voi, mi fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere seguire tutto il seminario fino adesso e quindi poter essere anche un po' come dire, entrata in questo lavoro che state facendo. Io spero di non avere dei problemi di collegamento, nel caso segnalatemelo perché ieri abbiamo fatto una lezione per l'Università di Torino, abbiamo avuto qualche problema e non si è capito per quale motivo. Ora inizio nel condividere il mio, la mia presentazione, per un attimo vi vedrete. Sì, perfetto, sì. Arrivo, è perché sta facendo una cosa strana, scusate, ecco, arriva. Perfetto, sì, vediamo. Adesso ve la metto anche in formato presentazione. Grazie. Arriva, scusate questo tempo è un po' lungo ma ho capito che... Ok, dovreste vederla ora. Sì, grazie. Bene. Per partire, insomma, con questo percorso sul Difficult Heritage tedesco, ho pensato di partire da un'immagine molto nota, ovvero quella di uno di quei progetti che erano stati pensati per la nuova Welthauptstadt Germania, la nuova capitale del Reich, ovvero il grande edificio a cupola, la grande grosse alle, addirittura chiamata Kuppelberg, per le dimensioni da montagna, che doveva essere il fulcro della nuova Berlino nell'anza della Spree. Volevo partire da questa immagine che è in realtà di un edificio non realizzato perché quando si parla dell'architettura del nazismo si fa sempre riferimento a questa serie di progetti non realizzati, progetti ipertrofici, progetti che lo stesso Albert Speer definisce da megalomani. E qui appunto, nominando Albert Speer, tocchiamo un po' l'altro elemento che ritorna sempre quando si pensa a quella che doveva essere l'architettura del nazismo, ovvero il cosiddetto architetto preferito da Hitler, in realtà figura complessa, figura ambigua, ministro degli armamenti dal 42 al processo di Nuremberg, famoso per prendere la sua posizione di non sapere dello sterminio dell'esistenza dei campi, sì, anche perché la sua condanna sarà relativa proprio all'uso degli zwangtabait, cioè dei lavoratori coatti, e le sue memorie, questa in realtà è la presentazione del secondo volume di Ari di Spandau, ovvero la prigione dove ha passato 40 anni in carcere, in realtà già prima aveva pubblicato le sue memorie, sono un po' la fonte a cui si fa riferimento per raccontare questa passione in particolare di Hitler per l'architettura. In realtà Speer non è l'unico architetto, quindi volevo un po' partire cominciando a sfatare un po' quelli che sono degli stereotipi di quando si parla un po' della questione dell'architettura nazista, cioè non è vero che non è stata solo sulla carta, ci è arrivata solamente come disegni, come progetti e come modelli e non è vero che l'unico architetto è stato Speer, l'unico architetto con una importanza così cruciale. Ho pensato di mostrarvi questa immagine famosa di Heinrich Hoffmann della visita ufficiale subito nel 40 a Parigi, dove in questo gruppo di figure principali del regime che arrivano in quel momento a Parigi, vediamo in prima fila Hitler con di fianco Speer, dall'altro lato Arno Brecher che era uno degli scultori preferiti da Hitler e di fianco a Speer c'è Herman Gisler. Herman Gisler, di cui ora nessuno sostanzialmente si ricorda, in realtà aveva un ruolo come architetto del Reich, non dico pari, ma affine a quello di Speer e nello stesso periodo in cui Speer pubblica le sue memorie dove fa una desamina, diciamo per certi aspetti anche se la racconta, ricordiamo che il titolo dell'intervista che gli farà Gitta Sereni sarà in lotta con la verità, in realtà il rapporto tra la verità e Speer è molto complicato. Ecco, nello stesso periodo Herman Gisler che accusa Speer di rifiutare, come si dice, di ripudiare la sua precedente adesione al nazismo, perché Gisler invece era rimasto nazista e pubblica un libro alla metà degli anni 70, Heinander e Hitler, per raccontare un altro Hitler che non fosse quello raccontato da Albert Speer. A questo punto fatte queste premesse ne faccio un'altra invece di tipo personale, mettendo insieme il materiale per questo nostro incontro mi sono resa conto che saranno circa 20 anni che quando vado in Germania sono andata a cercare diverse delle architetture invece realizzate durante gli anni del nazismo. Le architetture in realtà non sono solo quelle che ci aspettiamo, le grandi edifici di rappresentanza, ma ci sono stati diversi programmi culturali e ideologici e di propaganda del nazismo che hanno avuto un precipitato di tipo architettonico e urbanistico. Il luogo dove questa cosa mi ha colpito di più e da lì ho iniziato a ragionarci un po' più profonditamente è stato quando mi sono trovata a Heidelberg, quindi abbastanza decentrata rispetto ai maggiori punti di interesse rispetto alle città del nazismo, abbastanza risparmiata dai bombardamenti. È tipica di Heidelberg una pietra rossastra, una pietra scura con cui è fatto anche il castello di Heidelberg. Io ero lì per una summer school di studi culturali, non di studi storici. Ci hanno portato a vedere quelle durante una gita, insomma a vedere quelli che consideravano i luoghi di maggiore interesse della città e a un certo punto ci hanno portato in questo thingstätte. Io non avevo idea di che cosa fosse, non avevo capito neanche che cosa significasse perché questa parola thing in realtà a me rimandava più all'inglese che non al tedesco. E quando siamo entrati in questo teatro con questa struttura in realtà questa cavea molto profonda, di questa pietra scura, adesso in fotografia non rende, ma immaginatevi una pietra rosso-bruna, compenetrato dalla vegetazione, il docente che coordinava questa summer school, un importante docente di cui non farò il nome, mi disse vedi anche noi abbiamo i nostri teatri classici. Ora immaginatevi il mio sbigottimento, mentre invece stavo facendo l'esperienza di una cosa da un certo punto di vista pagana, ecco la sensazione che avevo più forte era di sì classico nel senso di pagano, ma c'era qualcosa che non rimandava assolutamente a nulla della classicità quanto a qualcosa di profondamente germanico, profondamente nordico, profondamente gotico. Tornando a casa ho cercato di capire di più di che cosa fossero i Tinkstätte e ho scoperto l'esistenza di questo programma di nuovo teatro portato avanti da Goebbels, dal Ministero della Cultura e della Propaganda, in particolare dal suo consigliere in ambito teatrale Rainer Schlosser, per un nuovo teatro, questa è una rappresentazione fatta nel Tinkstätte di Heidelberg nel 1935, un nuovo teatro che riprendesse i miti nordici, ma si intrecciasse anche con le prime vicende delle camice brune per fare questi spettacoli all'aperto in una dimensione panica immersa nella natura e per il quale non erano adatti i vecchi teatri e quindi c'era questo programma di realizzare circa un centinaio di questi Tinkstätte, presso le principali città, ne sono stati realizzati una quarantina. Quindi stiamo parlando di un progetto che è profondamente intrecciato con quella che è l'ideologia, non è un progetto di servizio, non è un progetto, insomma non stiamo parlando di per fare, io non voglio fare il parallelo nazismo-fascismo, però mi hanno fatto un po' riflettere una serie di ragionamenti che sono stati fatti negli altri incontri e questo non è una stazione ferroviaria, che per carità anche è una stazione ferroviaria, ha un aspetto ideologico, ma come tipo di progetto, quelli dei Tinkstätte, è un tipo di progetto profondamente radicato in l'ideologia, da forma all'ideologia e alla gestione della massa e questo è un altro aspetto su cui poi torneremo. Di questi teatri all'aperto, che in certi casi mantengono il loro nome di Tinkstätte, in altri hanno il nome di Valbune, questo è il caso di Berlino, fu realizzato nel 1936 in occasione delle Olimpiadi, faceva parte di tutti i nuovi progetti progetti per il polo sportivo, che poi sono quelli tuttora utilizzati, lo stadio, il villaggio olimpico eccetera, progettati dall'architetto Werner Marx. La Valbune è tuttora in uso, questa è un'immagine abbastanza recente di un grande concerto all'aperto, ma forse è rimasta più nota, piuttosto che la sua derivazione rispetto al nazismo, all'ideologia nazista, altri eventi come il famoso concerto dei Rolling Stones nel 65, quindi subito prima del 68, che fu un concerto con degli scontri molto violenti tra il pubblico che in realtà forzò per entrare e la polizia. Ma torniamo a questo punto, ora che sono partita da qualcosa di un po' più inaspettato, torniamo appunto invece a quello che, ai piani, ai programmi principali del nazismo. Abbiamo già detto di Berlino, in realtà Berlino non era l'unica città che doveva essere oggetto di questa grande, radicale trasformazione con degli sventramenti imponenti, perché alcune nuove città si doveva partire, andando poi, crescendo dalle principali, dove erano appunto Berlino, nuova capitale del Reich e del mondo, Welthauptstadt, cioè c'è la dimensione, l'ambizione mondiale. Su Berlino l'idea era anche quella di realizzare ciò che fino a quel momento non si era riusciti a fare, nel senso che Berlino ha uno sviluppo notoriamente est-ovest, perché segue il piume, segue la Spree, mentre un asse nord-sud era sicuramente più difficile da realizzare, ce n'era uno realizzato nel Settecento nella Friedrichstadt, però l'idea del nuovo Reich era invece riuscire a realizzarne uno imponente, riprendendo anche dei progetti fatti durante l'odiata Repubblica di Weimar nel 1919, ma in questo caso rendendoli ipertrofici, con da un lato la grande cupola e dall'altro un imponente arco di trionfo che doveva recare incisi sopra i nomi dei 1800 caduti nella Grande Guerra. Per un ragionamento su questo, in particolare questo progetto, vi rimando alle riflessioni che fece Canetti dopo l'uscita delle memorie di Speer in Potere e Sopravvivenza, in Hitler secondo Speer, dove fa una serie di riflessioni molto importanti su che cosa doveva essere la grosse alle in particolare, era un luogo dove la massa doveva poteva accrescersi e ripetersi, e introduce anche tutta una riflessione sul senso di rivalsa che Hitler offriva ai tedeschi, tutti i progetti che adesso noi vedremo hanno dei riferimenti nella storia dell'architettura precedente, si va dal Campidoglio a anche quello di Washington, però resi sempre una dimensione, una scala che perde la dimensione umana, cioè non è più una scala grande, ma è una scala grandissima e anche di questo i discorsi di Hitler sono assolutamente puntellati di questi riferimenti a questo nuovo stile che sarà un gross stile, o das Grosse, il più grande stile. In realtà appunto questi progetti non sono stati realizzati, mentre in altre città il progetto era già più avanzato, in Monaco, capitale del movimento, Hauptstadtwewegung, e cara a Hitler proprio per l'inizio del movimento nazista che poi portò alla fondazione dell'Ensdap, era già più avanti, erano già stati realizzati una serie di progetti che facevano riferimento anche proprio alle fasi iniziali, alle prime camice brune, agli scontri, quindi una dimensione di onore, di celebrazione di eroi e non solo, doveva diventare anche la casa dell'arte tedesca, nel 1937 viene inaugurato l'Austerkunst, il progetto di Paul Ludwig Trost, che era in realtà il primo architetto prediretto da Hitler, edificio che c'è tuttora, ed è tuttora, prima doveva essere Aus der Deutschen Kunst, invece adesso è Aus der Kunst, è semplicemente stato tolto tedesco, ma è un edificio che mantiene in realtà ancora delle proporzioni, grazie anche all'abilità dell'architetto che apparteneva a realtà alla generazione precedente, e è molto interessante quando fu inaugurata, fu inaugurata contestualmente a due mostre, la mostra dell'Antartete Kunst, dall'altra parte delle strade, cioè la mostra dell'arte degenerata, mentre questo edificio doveva ospitare la prima grande mostra dell'arte tedesca, che invece tentava di ridefinire la nuova arte che doveva esprimere i valori del Reich. Altra città su cui invece non ci sono state effettivamente le realizzazioni pensate era Hamburgo, Hamburgo doveva diventare la capitale portuale del Reich, in questo caso è il progetto di questo nuovo porto con questo grande edificio a torre disegnato da Kostatin Guchov, però in questo caso non è stato realizzato. Realizzato invece è il grande polo per le feste del partito, il Partai Tag a Nuremberg, questa è un'immagine dello Zeppelinfeld, immagini molto famosa anche perché riprese da Lenny Riefenstahl nei vari film che ha fatto sui raduni del partito e questa invece è Linz. Perché Linz? Perché Linz era la città dell'infanzia, della gioventù di Hitler e Hitler la voreva a rendere una nuova Budapest in un certo senso, cioè l'altra capitale che si potesse opporre a dovesse oscurare Vienna, l'odiata Vienna che invece non aveva, ci sono anche degli aneddoti su questo, però insomma il fatto che lui fosse stato rifiutato più volte dall'Accademia delle Belle Arti di Vienna faceva sì che la città non fosse amata da Hitler, benché nel 1938 con l'Anschluss ci furono grandi festeggiamenti per l'annessione al Reich nazista. Questa passione di Hitler per l'architettura invece non è effettivamente una favola, una leggenda, uno stereotipo, appunto questa sua formazione come pittore, artista, lui sono stati ritrovati moltissimi schizzi sulla base dei quali poi sono stati elaborati grandi progetti come ad esempio l'edificio a cupola o come il Führer Museum che doveva essere realizzato proprio a Linz, in realtà appunto la capitale dell'arte si doveva, sarebbe dovuta spostare lì. Qui appunto è con Speer e Ruff che è uno degli architetti invece che ha per il progetto della Reichspartei Tagsglende, cioè per il terreno dei raduni del partito a Norimberga e qui invece è durante il cantiere dell'Ausderkunst. Ma veniamo appunto a, partiamo dal caso di Norimberga perché il caso Norimberga viene ripreso dallo stesso Speer nelle sue memorie per mettere in luce un aspetto cruciale di queste architetture. Queste appunto sono delle immagini sempre dello Zeppelinfeld, in realtà lo Zeppelinfeld doveva essere un piccolo tassellino e quello che vedete in, diciamo nell'area più vicina a noi di questo piano, il piano per l'area dei raduni del partito in realtà doveva essere composta di diversi edifici nella periferia di Norimberga, quello di fianco è la Congressalle in forma di Colosseo e poi doveva esserci un grande stadio a forma di ferro di cavallo, un campo di Marte, una grosse strasse, la stricata che doveva congiungere con la città. Questo progetto è come era stato presentato a l'esposizione internazionale 1937 a Parigi nel padiglione, il verticalissimo padiglione progettato da Albert Speer. Perché dico che è qualcosa di cruciale? Perché Speer nelle sue memorie racconta un episodio che forse faccio prima a leggervi perché è molto interessante. Praticamente stavano iniziando i lavori sullo Zeppelinfeld dove si trovavano in realtà degli altri edifici preesistenti, degli edifici tuttavia moderni, cioè realizzati nel decennio precedente, credo che fosse un deposito di autobus, realizzati secondo quella che è l'architettura del modernismo, ovvero l'architettura che usava il calcestruzzo armato, l'acciaio, il vetro, eccetera. Quell'architettura che viene detto anche qui in un modo un po' troppo tranchant che Hitler odiasse, è vero, la odiava, però non è che il funzionalismo viene completamente rigettato, diciamo che non poteva essere utilizzato per gli edifici di rappresentanza. In questo passo Speer racconta per quale motivo. Lui disse che avevano fatto saltare questi edifici preesistenti e gli accade di passarvi davanti e di osservare il miserando spettacolo del cemento armato in rovina, con le nervature in ferro pensolanti e già corrosi dalla ruggine. Non era difficile immaginare quanto sarebbe stato rapido l'ulteriore decadimento. Questa visione desolante stimolò in me l'idea che esposi più tardi a Hitler sotto il nome alquanto pretenzioso di Theorie von Ruinenwert, ovvero del valore che un edificio può avere, visto come rovina. La mia premessa era che le costruzioni moderne sono indubbiamente poco adatte a creare quel ponte di tradizione che secondo Hitler avrebbe dovuto congiungere la nostra generazione alle generazioni future. Era impensabile che da cumuli di macerie polverose potessero sprigionarsi quelle ispirazioni eroiche che riempivano Hitler di ammirazione davanti ai monumenti del passato. La mia teoria si proponeva appunto di superare questo punto morto. Impiegando determinati materiali e rispettando determinate esigenze statiche, si doveva poter costruire degli edifici capaci di eguagliare in pieno sfacelo, dopo centinaia, anzi, secondo il nostro metro, migliaia di anni, i monumenti romani. Per rendere più evidente il mio pensiero, feci eseguire un disegno che raffigurava romanticamente la tribuna dello Zeppelinfeld dopo secoli di abbandono, coperta di edera, infrante le colonne, crollate in varie punti le mura, ma ancora intatta e pienamente riconoscibile nelle sue grandi linee. Disegno questo che nell'entourage di Hitler fu considerato una bestemmia, non potendosi concepire che qualcuno prevedesse un periodo di decadenza del nostro impero appena fondato. Hitler, al contrario, trovò che le mie riflessioni erano logiche e illuminanti e stabilì che in avvenire le maggiori costruzioni del suo Reich fossero erette secondo la mia legge delle rovine. Ora, come dicevo prima, come fonte le memorie di Schwer vanno prese con le pinze. Certo è che per i grandi edifici di rappresentanza, che appunto in diversi discorsi Hitler sottolinea come non erano fatte per il loro tempo, ma erano fatte perdurare, appunto il Reich millenario che si pensava, anche in questo senso una dimensione sovrumana, si pensava già in rovina, si pensava dopo, pensava che cosa avrebbe lasciato sul terreno e anche per questo in realtà Hitler non amava molto i riferimenti preferiti da altri come Goebbels, Himmler al mondo germanico, perché proprio in alcuni passi dei suoi discorsi ci sono dei riferimenti al fatto che quando esisteva l'impero romano i germani ancora stavano nelle campagne e nelle foreste. Ma al di là di questi aneddoti è un altro elemento che vorrei sottolineare. Questa è un'immagine con Schwer e Hitler che scelgono i marmi per la cancelleria. A partire da questa serie di ragionamenti che non so se all'epoca effettivamente fossero così sistematici, però parte un progetto di procurare il quantitativo maggiore possibile di granito e mattoni per, se non dico completamente costruire, in realtà tutti questi edifici hanno una struttura di calcestruzzo armato, cioè hanno una struttura moderna che poi viene ricoperta con granito, mattoni, calcare, pietra, eccetera. Ma dove veniva lavorato tutto questo materiale? Veniva lavorato presso cave o presso, come si dice, giacimenti di argilla, eccetera, dove presso campi di concentramento. Questa è un'immagine di Gusen con una visita, una visita ufficiale di Himmler. Gusen faceva parte del complesso del campo di Mauthausen in Austria che era stato aperto subito dopo l'Anschluss presso le principali cave di granito di tutta l'Austria e queste sono delle immagini dei lavoratori, dei prigionieri che fossero, zwanzabiter, cioè in realtà era un sistema complesso quello dei lavoratori coatti, non sono solo i prigionieri dei campi ma sono da un certo punto in avanti anche i prigionieri di guerra e i civili di paesi nemici che vengono in questa gerarchia complessa, tutti coinvolti nel sistema del lavoro coatto. E questa è appunto una delle immagini più famose, queste immagini salvate dai rotspanieri, gli spagnoli, anzi i catalani, i repubblicani che lavoravano nel laboratorio dell'Erkennundienst di Mauthausen che salvano alcuni di questi scatti che presentano anche questo sistema in realtà di lavorazione della pietra assolutamente privo di senso dal punto di vista del lavoro perché far portare lungo una scala, la cosetta scala della morte di Mauthausen, a ogni prigioniero un blocco di granito è assolutamente privo di senso dal punto di vista del lavoro se non per anche la denigrazione del lavoro stesso come lavoro schiavo, non per fare un sistema idraulico per tirarlo su se sono riusciti a fare i progressi tecnici che sono riusciti a fare diciamo che potevano trovare un altro metodo. Questo per dire come già ci rendiamo conto come questo sistema, in realtà questo progetto, questo programma architettonico urbanistico, questo programma fortemente ideologico di trasformazione delle città del Reich in realtà è legato a doppio filo con l'altro sistema, il sistema dei campi, un sistema fatto per durare, un sistema fatto per essere effimero, le strutture dei campi sono pochi i saggi che le analizzano da questo punto di vista, è stato fatto un lavoro molto interessante da Jean-Louis Cohen che ragiona su queste strutture in termini di architettura funzionalista con appunto tutta una serie di passaggi resi semplificati, anche quelli dell'eliminazione, ma in realtà non hanno dei materiali fatti per durare e questo è un problema che se abbiamo il problema di cosa fare delle tracce fatte per durare, ovvero degli grandi edifici del nazismo, dall'altro lato il contraltare è il problema di invece come mantenere il sistema dei campi che invece si sta sostanzialmente sgretolando. Ma torniamo a Norimberga e cosa c'è adesso? In realtà questa qui è un'immagine del 2000, 2001, della prima volta che sono andata là, quando non c'era ancora il docu-centrum dentro la Congressalle, all'epoca l'unica mostra era all'interno dello zoccolo dello Zeppelinfeld, fatte saltare le colonne per un motivo più che statico sostanzialmente simbolico, ci sono famose le immagini dove viene fatta saltare la grande svastica, al centro, dentro lo zoccolo si trovava questa mostra Fascinazione und Gewalt, cioè fascinazione e violenza, che trovo che sia un titolo molto azzeccato, molto preciso proprio. All'interno c'erano sia delle stanze dove appunto si poteva vedere in realtà questa parte più, la parte strutturale non ancora ricoperta di marmi, mentre invece questa era la grande sala dorata, sala dorata perché non so se non si vede molto bene in questa fotografia, ma il soffitto in realtà è fatto con un mosaico di svastiche dorate, ricoperta di marmi e con solamente appoggiati questi pannelli, raccontato che cos'erano la storia del complesso di questo edificio. Ora all'epoca a visitarlo eravamo sostanzialmente in quattro, me lo ricordo molto bene, io l'amica con cui viaggiavo e una famigliola di pakistani, anzi tre loro, erano madre, padre e un bambino. E mi colpi molto perché nel 2000 cercare di andare a vedere questi grandi residui in realtà non venivi ben visto, chiedendo indicazioni stradali venivi guardato molto male, non pensavo di dare l'impressione di essere una neonazista e in realtà anche solo l'interesse ti faceva guardare con sospetto e non mi è capitato solo a Norimberga. E questo appunto era come era in quel momento, ma a tutt'oggi è così, perché anzi adesso anche meno perché non è più visitato lo zocco, lo zeppelinfeld, ci fanno sostanzialmente davanti c'è un circuito per fare delle corse in auto e sopra all'epoca ci andavano dei ragazzi con lo skate, adesso c'è scritto proprio per botten, non si può andare con lo skate, sopra la scalinata, ma è sostanzialmente ancora così, è proprio abbandonato e anzi quando ci si pone la domanda di cosa farci, in realtà la risposta è negativa, cioè meglio non farci nulla, che in realtà è una risposta interessante, non dico mica, però quando hanno poi aperto invece il DocuCentrum dentro la Congress Hall, ricordo che ci sono data che l'avevano appena inaugurato nel 2002 e le persone che ci lavoravano ponevano il problema della difficoltà che aveva la città nel relazionarsi con queste strutture, che nel tempo siccome erano rimaste, erano in uno stadio alcune anche abbastanza avanzato di realizzazione, in particolare questa, in realtà l'elemento cruciale sarebbe dovuto stare essere l'aula centrale che invece veniva utilizzata come parcheggio fondamentalmente, mentre tutto il resto del ferro di cavallo erano degli edifici, erano delle strutture di servizio per questa grande Congress Halle, questa sala da congresso e parlai con le persone che lavoravano, un curatore insomma del nuovo centro di documentazione sul nazismo e in particolare in realtà sulla storia delle feste del partito e mi disse che c'era sempre stata proprio una fatica nel gestire il rapporto con questi edifici, di cui proprio si teneva a cancellare nell'esistenza, salvo in realtà utilizzarne una parte, poi dopo lo vedremo, se da un lato, dal lato dove c'è questa, è stata creata dall'architetto Gunther Dominig, che ha un nome molto simile all'artista Gunther Dominig, che è quello delle pietre d'inciampo, questo architetto nel 2000 creò questa spina, questa sorta di freccia che entra nell'edificio e permette di creare un corridoio di smistamento che fa attorno al quale insomma si svolge la mostra e la cosa interessante è che lui lo realizza proprio con quel metallo e vetro che tanto Hitler aborriva per l'architettura, però questo è quello che accade in quella porzione, nell'altra e dopo ve lo mostro, ricordatevelo perché vi faccio vedere che cosa c'è, allora questo è l'ingresso, in realtà l'ingresso allora, ora c'è la scritta di questa freccia, questa è questa, la scala appunto dell'ingresso del DocuCentrum e questo è quello che vede questo attraversamento che poi entra dentro la grande, lo spazio di quella che doveva essere la halle. Vedete questi rocchi di pilastri sul lato, bene, questa appunto è un'immagine di come doveva essere fatta e vedete che ci sono dei pilastri sul fondo, ecco per darvi un'idea della dimensione, nel 2014 sono state ritrovati in una cava questi rocchi che dovevano essere elementi di costruzione di questi pilastri, quindi effettivamente la scala è una scala assolutamente impressionante, una scala con una dimensione per accogliere la massa che appunto, come diceva Canetti, in questi spazi ripetendosi continuava ad accrescersi. Che cosa c'è di fianco? C'è la sede dell'orchestra sinfonica di Norimberga, anzi mi ha anche colpito molto come si chiama l'altra corte, si chiama Serenadenhof, la corte delle serenate, ci fanno dei concerti durante l'estate. Per carità, l'uso di questi spazi, riavvicinarsi, andarci, evitare di rimuoverli, a me sembra una cosa molto positiva e che delle volte fa un po' impressione perché sembra che poi non si sappia per chi li visita esattamente che cosa sono questi luoghi e in questo caso no, nel caso dei teatri all'aperto abbiamo visto che in realtà c'è anche una continuità di funzione, ma procediamo. Come vi dicevo invece il, come vi dicevo, scusatemi, non come vi dicevo, primo sbagliato ho chiamato centro di documentazione del nazismo, in realtà il centro di documentazione sul nazismo è molto più recente, è stato realizzato a Monaco, l'inaugurazione del 2015-2016, ora non ricordo, anche qui un edificio, una nuova architettura che si inserisce dove? In uno dei poli del partito nazista a Monaco e è molto interessante che in questo caso siano state lasciate le macerie davanti di quella che era il basamento del Braunhaus, la Casa Bruna, che in realtà è stata distrutta e però appunto di fianco c'è poi questo altro edificio che fa parte, siamo nella zona del Führerbau e sono tutti edifici che se non ricordo male adesso utilizza l'università, sono state tolte le svastiche, sono state tolte le aquile, però sono assolutamente quegli edifici riutilizzati, recentemente credo sono state emesse una serie di placche all'esterno che dicono che raccontano la storia di questi edifici. Ma in realtà l'architettura nazista che ha lasciato tracce è molto più presente di quello che possiamo pensare anche con dei progetti che non erano tipo rappresentativo ma sarebbero dovuto diventarli. Allora questo è un progetto assolutamente incredibile, sono queste grandi fortezze fatte in calcestruzzo armato e con delle pareti di profondità circa di 5 metri, erano le Flactum, cioè le grandi torri della contraerea. Ne vengono realizzate in tre città in particolare che sono Berlino, Hamburgo e Vienna, hanno delle forme un po' diverse, ma il concetto è sempre questo, sono le torri con sopra le batterie della contraerea, vengono anche utilizzate per nascondere ad esempio le grandi opere d'arte, per proteggerle, sono degli enormi bunker fondamentalmente, fatte, disegnate dall'architetto Friedrich Tams, riprendendo quelli che erano i modelli, adesso vado un pochino avanti, poi torno indietro, vedete ad esempio queste qua, queste qui sono le di Vienna, riprendono un po' il modello del mausoleo di Teodorico, Castel Sant'Angelo e l'idea è quella poi, dato che sarebbe stato impossibile distruggerle ed effettivamente è così, è impossibile distruggerle, perché per minarle o si creano proprio dei problemi di subsidenza, è come creare un terremoto fondamentalmente, oppure te le devi tenere e quindi l'idea del regime era quello, finita la guerra le copriamo con del marmo e le trasformiamo in nuovi monumenti alla Pax Germanica fondamentalmente. In realtà che cosa è successo? E torno un attimo indietro, questa è la più geniale di tutte quanto a riuso, siamo ad Hamburgo nel quartiere di St. Pauli, quindi un quartiere molto popolare, sotto c'è fondamentalmente un Luna Park, ma dentro l'hanno riutilizzata mettendoci tutte le cose che fanno rumore, cioè ci sono diverse discoteche, negozi per strumenti musicali e sale prove, residenze per artisti, cioè tutto quello che crea confusione e rumore è stato collocato lì dentro. Un'altra credo che ci volessero realizzare, non so se l'abbiano effettivamente realizzato, una centrale per energia pulita con pannelli solari e altre cose che non ricordo e quelle di Vienna invece è un po' più problematico. Quelle di Vienna ce ne sono direi sei perché erano quelle a coppia tra una di, non mi ricordo esattamente i nomi, ma una era tipo di difesa e l'altra di attacco. Sono in tre parchi che circondano il centro di Vienna e sono sostanzialmente abbandonate, in una dentro c'è il Museo del Mare, in un'altra, che a Vienna è effettivamente una scelta un po' particolare, in un'altra è dentro all'edificio governativo, ottenuta come sai mai durante la guerra fredda, hanno detto sai mai nel caso abbiamo un bel bunker da utilizzare, ma altre sono proprio dentro dei parchi e sotto c'è il kindergarten, c'è l'asilo e questa in particolare ha anche una parte dove poter fare arrampicata, avevano pensato di metterci sopra sul tetto una caffetteria, ma credo che alla fine questo non sia stato realizzato, però anche lì rispetto agli austriaci a me ha fatto l'impressione, perché ho cercato di vederle tutte, una non eravamo, era quella credo quella del governo, quella utilizzata nel palazzo governativo e ho chiesto anche lì un'informazione stradale dicendo scusi stiamo cercando una cosa fatta così e la persona mi ha detto no guardi, non so di cosa stia parlando, non l'ho mai vista, poi girando l'angolo era in fondo alla strada ed era inequivocabile, è che appunto non si sa esattamente che cosa sono. Quelle di Berlino, ecco Berlino rimanevano nella parte occupata dai russi, dai sovietici e diciamo che invece loro ci hanno provato a batterle e c'è questa sequenza che si ritrova nel Bundesarchiv, molto interessante, di quando ne hanno fatto saltare una, che credo sia quella in Friedrichshain, appunto riescono a farla saltare e in realtà cosa succede? Si rompe a metà, non è che si sgretola, si rompe a metà e quello lì è il trenino che porta le macerie, sposta le macerie della città e in realtà i berlinesi del dopoguerra si adattano a tutto e andavano a fare nel parco, in Friedrichshain, nei picnic al laghetto con visione della Flakfurturm esplosa. Vengono create delle collinette, le varie colline di macerio, Teufelsberg, tutto Berlino e non solo Berlino, molte città della Germania hanno questa serie di colline artificiali ecco, nel parco di Friedrichshain c'è una collina artificiale e contiene sotto la Flakfurturm a Humboldtheim, che è un altro dei parchi di Berlino, spunta, cioè non è stata completamente nascosta dalla collina, per cui appunto ci sono questi cartelli con scritto Flakfurturm e ti ritrovi nella parte che emerge e anche qui credo che una parte l'abbiano utilizzata per fare arrampicata, se no appunto graffiti, non so se avessero dei progetti di altro tipo perché ogni tanto c'è sempre questa idea di metterci in cima a una caffetteria su questi edifici perché sono edifici alti da cui si ha una veduta anche molto panoramica delle città e in questo caso, in cui vediamo un'altra delle possibili utilizzazioni del presente, la città di Berlino più di altre, devo dire, ha lavorato su questo patrimonio e ha anche lavorato in un senso turistico, questi sono degli ingressi, ricordiamoci che appunto erano realtà dei bunker queste strutture, delle strutture di servizio da cui si entrava poi in una serie di cunicoli sotterranei connessi anche con la Flakfurturm, siamo proprio dall'altro lato della strada rispetto a Humboldtheim e Berlino e Unterwelt è proprio questo progetto turistico per fare delle visite ai residui, alle tracce, ai relitti in questo caso, vorrei dire più che reliquie del nazismo, con queste visite guidate si radunano moltissime persone, moltissimi turisti nel fare queste visite, ecco io non sono mai stata una, non so che cosa venga raccontato. In altri luoghi invece è molto più difficile il rapporto con queste strutture, parliamo sempre di strutture che stanno tra la rappresentanza e il militare, questo è un progetto, un programma meno noto per proprio quello di cui adesso vi vado a parlare, che è quello delle Ordensburgen, cioè l'idea era quella di rifare i castelli dell'ordine teutonico, castelli per la nuova elite nazista. Di questi complessi ne sono stati realizzati tre, uno è a sud, a Sontofen, nella zona delle Alpi ed è stato progettato proprio da Herman Gisler, di cui dicevo prima l'architetto che ha disegnato anche la ritrasformazione di Linz, Sontofen è demanio militare tuttora, un'altra, Kreuzin, se è in Pomerania, quindi è Polonia e anche lì è una struttura militare. L'unica che è passata pochi anni fa, 15 anni fa, a demanio pubblico invece è la Ordensburg di Vogelsang in Eiffel e questo è il giorno dell'inaugurazione, scusate, non dell'inaugurazione, della posa della prima pietra di questa struttura che qui vedete nella sua complessità, l'architetto, questo architetto che si chiama Clemens Klotz, il tipo di architettura è un'architettura regionalista, cioè un modernismo declinato in senso regionalista, con queste falde spioventi, la pietra a vista, però di fatto è un tipo di disegno del modernismo e quello che è impressionante in questo luogo è dove si trova, queste sono alcune immagini dell'epoca perché effettivamente era stata completata e utilizzata, siamo vicino Colonia, questi sono questi due blocchi di ingresso con questi elementi scultori che rimandano appunto al mondo dei cavalieri, l'ordine teutonico per questo nuovo ordine nazista che si riprende questo e questo è dal punto di vista paeseagistico dove si colloca, si colloca di fronte, è un declivio di gradante che guarda questo sistema di laghi, realtà artificiali creato da una diga e certe giornate avvolte dalla nebbia, in realtà, leggevo un articolo di uno storico dell'architettura che ci è andato in una di queste occasioni e veramente percepisci questa dimensione proprio di volontà di potenza che si mischia con i miti nordici, con appunto anche Odino, gli dei nordici e il complesso è stato poi utilizzato come caserma belga fino agli anni 90, poi è passato al demanio pubblico e quando ci sono stata c'era dentro un primo nucleo di mostra storica, stavano facendo un restauro, in realtà è anche un complesso molto bello devo dire da un certo punto di vista, però ha una fascinazione, torniamo col tema di fascinazione e violenza che è molto forte, molto più forte che altrove e quindi mi raccontava anche in questo caso il curatore della mostra, mi diceva che loro avevano una grande difficoltà a relazionarsi con queste strutture che venivano utilizzate in termini funzionali, nel senso che questa è la piscina, la piscina anche quella della caserma belga veniva utilizzata dalla popolazione l'intorno e il problema anche formale di confrontarsi con questi tre corpi, con questa rappresentazione del corpo nazista da parte dei bambini del paesino lì vicino in Eiffel che andavano a fare il corso di nuoto. C'era una dimensione di non detto, non una dimensione esplicita di raccontare che cos'era questo complesso, che è un complesso molto più sottile rispetto all'edificio a cupola o ai grandi edifici che abbiamo visto prima, però fa assolutamente parte del programma culturale del nazismo, quello della formazione per l'appunto della nuova elite. Ma forse il progetto da questo punto di vista più impressionante e coordinato sempre da, scusatemi, prima questi progetti per l'informazione dell'elite giovanile erano coordinate da Robert Lay e Robert Lay è anche il fautore di questo grande, veramente impressionante progetto di le colonie estive declinate in senso nazista. Questo è il progetto di Zebad Prora, ovvero una colonia estiva coordinata da quello che era la Kraft du Freud, la porta attraverso la gioia, questi splendidi eufemismi del nazismo, era in realtà il dopolavoro dell'unico sindacato rimasto, perché tutti gli altri erano stati sciolti, sindacato nazista, ed era una colonia per 20.000 persone più 2.000 addetti. Il progetto è sempre di Clemens Klotz, l'architetto che abbiamo visto prima, con l'inserimento della grande festalle, ci sono questi corpi che attraversano in senso perpendicolare, la festalle centrale invece di Eric Zupulitz. Questo progetto ha vinto uno dei premi dell'esposizione internazionale del 1937 di Parigi, ne dovevano essere realizzate 5, tutte nelle zone del Baltico, perché dove siamo? Siamo sull'isola di Rugen, questa è un'immagine della costruzione, l'edificio sono 6 piani per 4,5 chilometri di lunghezza, nella spiaggia più bella dell'isola di Rugen, l'isola di Rugen è sotto la Danimarca per intenderci, da sempre luogo di attrattive turistiche e poi ha continuato a esserlo anche, ci andava Oneker per dire, e ci sono moltissime colonie realizzate dopo anche con la Deder, l'edificio appunto in realtà è in realtà un edificio molto, non saprei come definirlo, ma è di nuovo un gigantismo esasperato, una dimensione sovrumana della scala, però è una scala di tipo, scusatemi, dal punto di vista formale appunto è un funzionalismo anche abbastanza sciatto, brutale e quello che stupisce è che, allora quale funzione ha avuto? In realtà sembra nella sua natura di essere una sorta di grande caserma, è stata assolutamente ben interpretata dall'occupazione sovietica prima e poi dalla Deder che ci ha messo l'esercito fondamentalmente, anche in una delle sue porzioni, tanto veramente è lunghissimo, anche per le famiglie dei soldati che potevano fare lì dei periodi di vacanza. Quello che fa impressione è che recentemente è stata realizzata in una parte una serie di appartamenti di lusso, ecco il lusso e Zebad Prora non so, sono veramente difficilmente conciliabili rispetto per quando ci sono andate, quello che mi ha fatto impressione è stato che nella, queste qui sono alcune immagini che si trovano su Booking di questo luogo e nel pubblicizzarlo che cosa si dice? Che è il più grande, adesso non so se lo dica proprio qui, comunque l'idea che sia il più grande hotel, cioè questa dimensione riprende in realtà nella sua pubblicità quella che era la pubblicità che ne faceva il nazismo per fare i viaggi della Kraft del Freud, erano pensate proprio come tante cabine e poi delle prore verso il mare, è la spiaggia più bella dell'isola di Rugen e il modo per riappropriarsene, ah un'altra cosa, io quando vado in questi luoghi mi ero sempre aspettata di trovare moltissime occupazioni, no pochissimo, qui c'era dentro il provveditorato, un ostello, forse in un qualche appartamento a un certo punto era stato occupato, ma per il resto c'è proprio una, sono come respingenti questi grandi progetti, ma soprattutto c'è da dire un'altra cosa, queste sono delle immagini di uno dei grandi, la costruzione dei grandi bunker, anche questo è rimasto un grande bunker vicino Brema, il bunker Valentin per la progettazione di U-Boat, avete visto chi lavorava? Lavoravano Zwangsarbeiter, cioè gli Zwangsarbeiter non solo producono il materiale di costruzione, ma costruiscono, cioè mettono in forma le casse forme per il calcestruzzo armato e questo è un altro elemento cruciale dell'architettura del nazismo, in soli 12 anni di cui 6 anni di guerra è stato possibile realizzare, io veramente vi ho mostrato solamente una piccola scelta di tutti i progetti, di tutti i progetti di questo ampio programma architettonico-urbanistica, perché è stato possibile farlo così velocemente? Perché c'è la mano d'opera illimitata e presso il bunker Valentin, appunto che veramente sulla dimensione è una delle cose più impressionanti che abbiamo visto, anche qui hanno cercato di tirarlo giù, ma ci rimanevano dentro le bombe e non riuscivano neanche a esplodere quando ho provato a farlo saltare, qui è stato realizzato un monumento a chi, dedicato proprio agli Zwangsarbeiter che sono morti durante la sua realizzazione, perché tutti questi progetti venivano realizzati così velocemente, grazie alla guerra, grazie alla possibilità di avere un numero illimitato di mano d'opera da poter usare fino allo sfinimento. E qui e con questo mi vado verso la fine, è stato detto appunto che il fascismo riutilizza una serie di edifici che sono stati del regime. Allora, quando ho sentito questa frase ho pensato immediatamente al cosiddetto Ministero della Luftwaffe, in realtà il Ministero dell'Aviazione, costruito tra il 35 e il 36, in solo 18 mesi, su progetto dell'architetto Ernest Zagbil, che per intenderci è quello di Tempelhof, che di nuovo quanto ha dimensioni, ma anche è un'architettura assolutamente interessante, del grande aeroporto, quello da poco dismesso e diventato parco. Questo edificio per uffici, quando è stato realizzato, era il più grande edificio per uffici del mondo. Ora non ricordo tutte le dimensioni, ma si parla di 4.000 finestre, 4.000 stanze, adesso non ricordo esattamente. E dopo la guerra era rimasto sostanzialmente in piedi, in tonso, era stato bombardato tutto attorno. Queste qui sono delle immagini degli anni 70, con cui un po' apro a quello che sarà il vostro prossimo incontro. Siamo nella zona dove adesso sorge Topografie des Terrors, questo dietro è il muro, cioè tra il grande edificio e questo terreno dove loro stanno scavando, sono degli attivisti che vogliono ritirare fuori dove c'era il Prince Albert, cioè la sede della Gestapo, dietro c'è il muro e dietro ancora inizia quella che era la Germania Est, la Deder. In quel momento questo enorme edificio viene utilizzato come Haus des Ministerius, cioè ci stavano dentro i ministeri, l'amministrazione della Deder. Bene, questa è stata la prima realizzazione delle Topografie des Terrors, adesso è fatta in un modo diverso, però c'è ancora questo scavo archeologico e c'era appunto, qui vedete il carotaggio, cioè c'è lo scavo di Topografie des Terrors, il muro, un frammento di muro e dietro si vede questo immenso edificio, questo invece come è adesso, questo è un po' il terreno di Topografie des Terrors verso il quale si guarda l'edificio. Cosa c'è adesso in questo edificio? C'è il Ministero della Finanza, l'attuale Ministero della Finanza tedesca, con in mezzo un passaggio molto importante, cioè dopo la caduta del muro, questo luogo ha ospitato la Troihanstalt direi, la diciamo questa agenzia che si occupava della trasformazione della, come si dice, c'è un termine economico per dirlo, di tutto quello che era la privatizzazione e la ricostruzione di tutte quelle che erano le agenzie pubbliche, le strutture pubbliche della DDR, che nei primi anni 90 devono essere riconvertite e spesso appunto privatizzate nella nuova unificazione della Germania. E attualmente in realtà l'edificio è dedicato ad Etlev Rohwedder, che era il dirigente di questa struttura, ucciso nel 1991 da un cecchino mentre usciva di casa a Dusseldorf e questo omicidio era stato rivendicato come una delle ultime azioni, direi, dalla Rotterme Fraction, perché siamo al 1991, rivendicato, in realtà non si è mai capito esattamente che l'abbia fatto. E l'ultima volta che sono stata, due anni fa, ho visto che c'è questo intervento dell'artista Jochen Gertz, ci sono questa, in realtà adesso è scritto Dertud, poi passa Libe, lui praticamente ha fatto una serie di domande quando c'è stato il trasferimento qui nel 99 del Ministero della Finanza ai vari impiegati, una loro riflessione sul denaro, l'amore, la morte e la libertà. Che cosa resta alla fine? Ora, è un intervento contenta, mi fa molto piacere che un artista come Jochen Gertz si sia posto le domande in questa trasformazione riguardo a questo edificio, in realtà è un intervento molto, nel suo essere effimero è anche difficile da fermarsi, capirlo e leggere queste risposte che sono state date, però è l'unico segnale lì fuori, fuori dall'ingresso, che racconta, o almeno l'unico che ho trovato io, che racconta questa stratificazione di usi con un livello simbolico, peraltro abbastanza prepotente, cioè che attualmente questo edificio sia il Ministero della Finanza tedesca, un po' di brividini, li fa percepire. C'è una difficoltà sicuramente attuale della Germania di lavorare su queste tracce, cioè ci pensiamo, preparando questo ragionamento per voi, in realtà perché hai la sensazione che si debba ancora lavorare moltissimo sul difficult heritage tedesco, perché in realtà dopo la guerra il difficult heritage tedesco era di altro tipo, era di tipo sociale, c'era una società intera che andava denazificata e questo procedimento, questo processo di denazificazione è stato fatto, in particolare nei settori di occupazione americano britannico in realtà era un così capillare che in realtà non è stato affrontato fino in fondo e su cosa si è lavorato? Su ciò che era la parte negativa del nazismo, cioè ciò che il nazismo aveva annientato, ciò che il nazismo aveva distrutto, la pars destruens dell'ideologia nazista. Sulla pars construens, cioè sulla costruzione della nuova società e delle forme per la nuova società che fossero architettoniche, che fossero artistiche, invece ho sempre avuto la sensazione che si sia lavorato o meno, che ci sia ancora da fare e mi ha colpito una notizia di pochi mesi fa al Kunsthaus d'Alem, siamo fuori Berlino, questo è un kunsterai attuale, facendo dei lavori in giardino, di questo edificio che in realtà era lo studio di Arno Brecker, e facendo dei lavori in giardino sono spuntate fuori queste teste sbozzate enormi, alte più di un metro direi, pare che quella di sinistra sia un riferimento a un ragazzino zingaro, su che cosa mi evocano queste due iconografie per ora non vi dico nulla perché è solamente una sensazione, non si sa esattamente a cosa servisse, erano state interrate dentro il giardino e hanno cercato di esporle, ma le hanno esposte così su questi pallet, questa è appunto un'immagine del video che c'è di presentazione, che ho trovato su Berlin Magazine, non mi ricordo, dove proprio si vedono questi operai che le scavano fuori e poi sono state esposte su dei pallet, non ne trovate traccia dentro il sito del museo di Dahlem e ho capito dei vari articoli che c'era molto imbarazzo, le esponiamo, non le esponiamo, le rimettiamo nei depositi, depositi dei musei tedeschi sono pieni dell'arte di Arno Brecker e tutti i vari artisti che erano allineati e che hanno dato forma al regime, cioè non si sa che cosa farci, mi ha ricordato invece un atto deliberato e non così fatto perché non sai cosa fare, come quello di un artista come Rossella Biscotti che appunto ritrovando nei depositi direi proprio dell'Eur, delle immagini del Duce e del Re, ha deciso di esporle le teste di un oggetto e poi di fare questo lavoro con i calchi proprio cercando di indagare che cos'erano queste tracce rimaste. E quindi, e su questo assolutamente chiudo, forse mi sono un po' dilungata, torniamo, siamo partiti da un progetto non realizzato, cioè il grande asse monumentale per Berlino con la cupola e l'arco di trionfo, sembrano sempre dei progetti così ipertrofici da dire dai, non li avrebbero mai realizzati. Bene, nella periferia verso Tempelhof si trova questa strana cosa, è un cilindro pieno, c'è solo dentro una piccola stanza con dei vani per inserire degli strumenti di monitoraggio, perché che cos'è questa cosa? Viene chiamato Schwerbelastungskörper, cioè pesante corpo di carico, era un corpo, un sistema per valutare la tenuta del terreno, perché quegli edifici avrebbero gravato sul terreno talmente tanto che la domanda era reggerà il terreno di Berlino? Berlino è su terreno di sedimento, in particolare volendo costruire sull'asse nord-sud appunto dall'anza della Spree, è un fatto per calcolare di quanto sarebbero sprofondati questi edifici e se il terreno avrebbe tenuto. Attualmente è visitabile, anche lì c'è una piccola mostra che spiega che cos'è, ma quel lavoro che ho trovato più interessante è quello di un artista che si chiama Susanne Kriman, che nel 2008 per la Biennale di Berlino ha presentato questo progetto che appunto ho chiamato Schwerbelastungskörper o 12.650, 12.650 sono le tonnellate che pesa questo cilindro. E nel suo lavoro lei mostrava una serie di fotografie fatte nel tempo e una serie di articoli dove l'immagine del cilindro è sempre più gotica appunto, presa dal basso, avvolta dalla vegetazione, non è così, ma soprattutto la cosa interessante era quanto il numero nei vari articoli aumentava, cioè il peso diventava sempre più gravoso, come metafora del peso gravoso che hanno questo difficult heritage per la Germania odierna. E qui mi fermo.